Tre arresti e nove denunce per la seconda fase dell'operazione Alto Impatto Freedom contro il caporalato condotta sul piano nazionale. Controllo capillare delle aziende e del territorio da parte della polizia. La Guardia di Finanza ha arrestato a Catania un uomo che trasportava due chilogrammi di cocaina. L'uomo è stato fermato a un controllo dei militari presso il casello di San Gregorio della Catania Messina. L'amministrazione comunale di Ragusa è in cerca di soluzioni per arginare l'emergenza rifiuti, riportando fra le possibili soluzioni la riapertura della discarica di cava dei Modicani, che però è dichiarata da Lega Ambiente inquinata. Il musicista ragusano Nico Arezzo tra i finalisti della tappa finale del Festival Show, che competerà per partecipare all'importante Kermes Canora del 4 settembre all'Arena di Verona. Buon pomeriggio e bentrovati a una nuova edizione di MTG. Si è conclusa la seconda fase dell'attività di contrasto al caporalato nella provincia Iblea. La squadra mobile di Ragusa, in collaborazione con i colleghi di Modica e Vittoria e la polizia stradale, ha arrestato tre persone e denunciate altre nove. Numerose anche le aziende sottoposte ai controlli. La seconda fase del progetto rientra nell'ambito dell'operazione Alto Impatto Freedom contro il caporalato e condotta a livello nazionale. Tre imprenditori arrestati e nove denunciati al bilancio dell'operazione della squadra mobile di Ragusa con l'ausilio della polizia stradale e dei commissariati di Modica e Vittoria. Devono rispondere tutti di sfruttamento di braccianti agricoli. 11 le aziende controllate tra Ragusa, Ispica, Vittoria, Acate e Santa Croce Camerina. identificati 126 braccianti, 17 romeni di cui 12 donne, 41 centroafricani di cui 2 donne, 11 albanesi, 15 bengalesi, 10 pakistani, 5 indiani e 27 italiani. Due degli arrestati avevano minacciato di licenziare i lavoratori se avessero riferito alla squadra mobile le reali condizioni di impiego. Dovete dire che prendete 50 euro per 8 ore di lavoro, altrimenti vi licenzio. Queste le dichiarazioni. La polizia stradale ha scoperto, occultati da un telone, 13 lavoratori all'interno nel vano carico di un auto articolato. L'operazione di Ragusa è avvenuta nell'ambito di una serie di controlli su scala nazionale nell'ambito di un progetto chiamato Alto Impatto Freedom. Nel corso dei controlli sono state accertate in osservanze delle norme contributivo previdenziali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, a volte anche un'illecita attività di intermediazione tra domande offerte da parte dei caporali. L'operazione dunque è una continuazione di quella avvenuta nel corso della prima fase a fine giugno, ampliando di conseguenza il numero delle province e delle regioni sottoposte a controlli. In provincia di Ragusa è inoltre stato duplice l'obiettivo dell'operazione, da una parte individuare i cosiddetti caporali durante le fasi di reclutamento e dall'altra controllare le aziende che impiegavano mano d'opera al fine di verificare l'esistenza di indici di sfruttamento a danno dei lavoratori. La polizia stradale ha anche controllato un'auto articolato e nel vano carico ha scoperto 13 operai, come detto, nascosti da un telore in plastica. Di conseguenza la squadra mobile ha avviato le indagini presso l'azienda dove stavano recandosi i braccianti agricoli. I lavoratori avrebbero affermato che le loro condizioni economiche, sia pregresse che attuali, erano e permangono miserevoli. La stessa condizione sarebbe stata riscontrata anche in altre aziende. Adesso l'Ispettorato del Lavoro, l'Inps e l'Asp procederanno a contestare le diverse infrazioni accertate nell'ambito dei suddetti controlli. La Polizia di Stato in provincia di Ragusa continua a vigilare sul rispetto delle norme per tutelare i lavoratori costretti per il loro stato di bisogno. A Catania la Guardia di Finanza ha arrestato un uomo trovato in possesso di 2 kg di cocaina. Il Corriere, originario di Roma, era stato fermato dai militari che effettuavano dei controlli antidroga presso il casello di San Gregorio nella Catania Messina. L'uomo è stato condotto al carcere di Catania di piazza Lanza. Trasportava oltre 2 kg di cocaina destinata a rifornire il mercato etneo. Un 57enne, originario di Roma, è stato arrestato a Catania dalla Guardia di Finanza nel tardo pomeriggio di ieri. L'uomo viaggiava a bordo di un'auto quando è stato fermato dai militari che effettuavano un controllo antidroga presso il casello di San Gregorio dell'autostrada Catania Messina. Sin dalle prime domande di rito opposte dai militari, il Corriere mostrava chiari segni di nervosismo. Successivamente, da un'ispezione più accurata della vettura, le fiamme gialle hanno rinvenuto occultata all'interno della vettura due involucri confezionati con cellofan e nastro da imballaggio di colore nero, contenenti una sostanza verosimilmente ritenuta da una prima analisi materiale stupefacente. Una successiva analisi qualitativa, confermato si trattasse proprio di cocaina, che una volta emmessa nel mercato gli avrebbe furtato oltre 200.000 euro. Informata la procura distettuale della Repubblica, il Corriere è stato tratto in arresto e accompagnato presso la casa circondariale di Catania e di Piazza Lanza. Come dichiarano in una nota le fiamme gialle, il casello di San Gregorio fa parte delle aree particolarmente sensibili e traffici illeciti, rotabili e specifici punti di accesso alla città. Sarà eseguita oggi alle 16 nell'obitorio del cimitero di Ispica l'autopsia sul corpo di Orazio Spadaro, il 17enne deceduto a seguito di un incidente stradale sulla Pozzallo Ispica allo scorso fine settimana. Il medico legale incaricato dalla procura è Giorgio Spadaro, mentre la famiglia, per conto dell'avvocato Belfiore di Catania, ha incaricato come perito di parte il medico legale Giuseppe Iuvara. Subito dopo il corpo del giovane sarà restituito ai genitori per i funerali. E adesso il GIP di Ragusa presso il Tribunale di Ragusa ha convalidato l'arresto del 26enne che era alla guida dell'auto che ha travolto Giovanni Macchiavello, il custode dei campi di calcio e calcetto della riviera Camarina a Scoglitti, avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi. Questa mattina il giovane è stato ascoltato dal GIP che, nonostante abbia convalidato il fermo, lo ha rimesso in libertà in attesa del processo, in quanto non ci sono i presupposti per la restrizione ai domiciliari. Intanto ieri pomeriggio si sono svolti i funerali di Giovanni nella chiesa di Maria di Portosalvo a Vittoria. Sono poco più di mille i migranti che sono arrivati in Sicilia con tre sbarchi che interesseranno il versante sud-est dell'isola. Questa mattina alle 9 è attraccata al porto di Pozzallo la nave Aquarius dell'ONGSOS Mediterranea con a bordo personale di Medici Senza Frontiere che ha condotto 418 persone. Ci sono 294 uomini e 61 donne, oltre a 58 minori, tutti accompagnati. Tra le donne 10 sono incinte e sono state ricoverate negli ospedali di Modica, Raguse e Vittoria. Altre 6 persone invece sono state ricoverate per malesseri generali causati dalla traversata. Al momento si trovano tutti all'hotspot in attesa di essere trasferiti nei vari centri italiani. Le operazioni di sbarco sono terminate alle 12. Ad Augusta ne sono sbarcati 295 e nave 18 della Guardia Costiera è prodata a Catania con a bordo 314 migranti. La situazione meteo potrebbe rallentare le partenze dalla Libia in quanto in zona c'è un mare molto mosso. E adesso cambiamo argomento perché le fiamme gialle hanno devastato molti territori della Sicilia in questo mese di luglio. Un'emergenza che spesso nasconde dietro interessi criminali. L'autocombustione infatti è un evento raro in natura, così come evidenziato dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa. Spesso dietro i roghi c'è infatti la mano dei piromeni. Sentiamo i dettagli nel servizio. Quasi sempre gli incendi sono di natura doloso o colposa. Quelli dovuti a fatti che non rientrano in questa casistica sono pochissimi. Non a dubbio il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa Aldo Comella sull'origine dolosa o colposa delle fiamme che hanno devastato la provincia di Ragusa e l'intera Sicilia. Interessi criminali si celano dietro ai roghi ma anche la mancata prevenzione è una grave colpa. Il governo Crocetta non ha fatto nulla per prevenirli, afferma l'opposizione e adesso la Sicilia è costretta a sborsare almeno il doppio delle risorse per sostenere i costi del lavoro dei Canadar impegnati da settimane senza sosta nelle operazioni di spegnimento e poi nella bonifica dei territori. La regione cosa farà adesso per evitare che gli incendi siano appiccati nelle altre zone boschive dell'isola? Questo il quesito che tuona da più parti attualmente senza risposta. Intanto i dati che giungono dai vigili del fuoco della provincia eblea sono preoccupanti. Gli incendi in provincia di Ragusa sono aumentati del 20% rispetto allo scorso anno. Non ho un dato aggiornato ad oggi però già dal mese di giugno a tutto giugno avevamo già abbiamo una casistica di interventi che supera già del 20% rispetto ai numeri dell'anno scorso. L'amministrazione è intervenuta, l'amministrazione nostra, dando ai comandanti la possibilità nel caso di emergenze, di una certa gravità, di poter chiamare il personale addirittura libero dal servizio per intervenire. E sugli atti vandalici che hanno determinato la fuga di una coppia di turisti londinesi da Marina di Modica interviene il sindaco Abbate. Abbate ha infatti ascoltato le forze dell'ordine per capire come funzionano i controlli del territorio e ha affidato a una nota l'esito del confronto e le rassicurazioni del caso. Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, appreso di quanto è accaduto e denunciato pubblicamente da Alessandra Barone e suo fratello Uccio, ha avviato un confronto con le forze dell'ordine per capire come si stia svolgendo il controllo del territorio in città. Ogni sera pattuglie della polizia locale, del commissariato e dei carabinieri svolgono il loro servizio a Marina di Modica e Maganucco anche con l'ausilio di personale in Morghese, sottolinea in una nota il sindaco Abbate. Tali controlli, continua la nota, si svolgono anche durante la giornata lungo gli arenili. Sporadicamente si verificano però episodi spiacevoli come quelli che in questo fine settimana hanno coinvolto due famiglie di residenti e alcuni turisti. In un certo senso è il rovescio negativo della medaglia. Nella massa ci possono essere anche le mele marce, secondo cui il divertimento è recare offesa all'altro. Non si parli però di emergenza sicurezza a Marina di Modica, ribadisce il sindaco Abbate. Per contrastare al massimo questi comportamenti, le forze dell'ordine mi hanno garantito un aumento dei controlli, sempre compatibilmente alle esigenze d'organico, soprattutto serali e nei fine settimana. Stiamo già facendo i salti mortali, invece, dichiara il comandante della polizia municipale di Modica, Rosario Cannizzaro, facendo sempre i conti con la ristrettezza di uomini a disposizione. L'estate a Modicana ci mette a dura prova, sottolinea il comandante, perché ogni sera ha in programma un evento o una manifestazione a Modica, Marina o Frigintini. Proveremo comunque a fare di più, sottolinea il comandante della polizia municipale di Modica, Rosario Cannizzaro. Il caso era scoppiato a seguito della denuncia della famiglia Barone, che oltre ad informare le forze dell'ordine, aveva su Facebook pubblicato un post per raccontare degli atti vandalici e dell'inciviltà che si registra ai vialetti di Marina di Modica, ovvero il parco con viali alberati che si sviluppa vicino il lungomare Buonarroti. Già più volte da questa redazione era stato denunciato anche lo stato di degrado ed abbandono in cui versano i viali. In effetti ieri, girando per le viuzze, c'erano, come potete vedere dalle immagini, bottiglie, spazzatura e soprattutto cocci di vetro per terra. Adesso si spera che episodi come quelli che durante il weekend trascorso hanno determinato la fuga di una coppia di turisti londinesi non accadano più. Tempi duri per il libero consorzio comunale di Ragusa. La situazione finanziaria dell'ente ostacolerebbe l'approvazione del bilancio di previsione 2017 e dei documenti finanziari connessi a causa di uno squilibrio di quasi 14 milioni di euro. Come dichiara il commissario Cartabellotta in una nota, il governo regionale è consapevole dello stato di difficoltà delle ex province e bisogna individuare un percorso per annullare questo forte squilibrio. Sentiamo i dettagli nel servizio. In vista dei prossimi due appuntamenti istituzionali a Palermo del libero consorzio comunale, nel dettaglio il 27, l'incontro fra il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta e i commissari straordinari dell'ex province e il 1 agosto la conferenza regione e autonomie locali per definire il riparto finanziario per i liberi consorzi comunali e le città metropolitane, l'ente si fa i conti. Allo stato attuale, come risulta, all'assessorato regionale alle autonomie locali e all'assessorato regionale all'economia è di quasi 14 milioni di euro lo squilibrio di parte corrente del libero consorzio comunale di Ragusa. Una drammatica e scoraggiante situazione finanziaria che accomuna l'ente alle altre ex province siciliane. Questo forte squilibrio di parte corrente non consentirebbe l'approvazione del bilancio di previsione 2017 dei documenti finanziari connessi per il corrente esercizio finanziario. Come dichiara in una nota stampa il commissario straordinario Dario Cartabellotta, abbiamo già relazionato alla Corte dei Conti la situazione finanziaria dell'ente e aggiunge, proprio la sezione siciliana della Corte dei Conti con una propria indagine ha certificato l'enorme difficoltà di gestione dell'ente a causa dell'indisponibilità delle risorse minime per assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali a cui questo ente è preposto, conclude Cartabellotta. Lo squilibrio tenne conto dei fabbisogni essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali obbligatorie, ovvero il pagamento degli stipendi al personale dipendente che ammonta circa 13 milioni di euro, nonché le altre spese obbligatorie per l'assolvimento delle funzioni istituzionali, in cui è compresa anche la spesa per gli oneri di ammortamento dei mutui in essere per il corrente esercizio pari a 2 milioni e 700 mila euro. Rientra nel conteggio anche l'onere finanziario indispensabile per assicurare il funzionamento degli istituti scolastici di secondo grado, che ammonta a un milione e mezzo, e le spese minime necessarie per le opere di manutenzione o di aria della rete viaria provinciale, comprese le spese per l'illuminazione pubblica, che ammontano complessivamente a 700 mila euro. Il governo regionale è consapevole dello stato di difficoltà delle ex province, dichiara il commissario Cartabellotta nella nota, e continua Bisogna individuare un percorso per annullare questo forte squilibrio dettato dal prelievo forzoso dello Stato, che per quanto riguarda Ragusa è di 17 milioni e 260 mila euro, che costituisce il 40% della spesa corrente dell'ente, conclude Cartabellotta nella nota. Emergenza, rifiuti, l'amministrazione comunale di Ragusa punta sulla possibilità di riapertura della discarica di cava dei modicani per garantire lo smaltimento dei rifiuti, ma il sito è inquinato, come sostiene il legambiente, e va solo bonificato. Decisiva oggi una conferenza di servizio che si terrà a Palermo, e intanto si cercano soluzioni provvisorie e immediate per combattere questa emergenza. Ce ne parla Carmela Minardo. L'ancora di salvataggio continua a chiamarsi cava dei modicani. L'amministrazione comunale punta a poterla utilizzare ancora in futuro per combattere un'emergenza rifiuti che potrebbe essere drammatica per la città di Ragusa. La scelta di smaltirle ancora su questo sito è stata bocciata da legambiente che ne sconsiglia vivamente la riapertura, ed anzi chiede che venga bonificata con urgenza, visto che la falda acquifera sottostante la discarica risulta inquinata da nickel, manganese e nitrati. Palazzo dell'Aquila ha imboccato un'altra strada, se in un comunicato stampa rivendica il merito di aver ottenuto su propria pressante richiesta la convocazione per domani di una conferenza di servizi presso il Dipartimento dell'Assessorato Territorio ed Ambiente al fine di completare l'iter necessario per il provvedimento autorizzatorio della cosiddetta AIA, l'autorizzazione integrata ambientale per il sito Ibleo. In attesa degli sviluppi, poiché l'emergenza è ormai in atto, si cercano soluzioni provvisorie ed immediate. Il Presidente Crocetta mi ha assicurato che oggi sarà fatto un provvedimento che autorizzi il trattamento meccanico-biologico, quindi l'impianto che c'è a Cava di Emoticani per trattare i rifiuti e che poi i rifiuti verranno portati fuori e questo temporaneamente nell'emore che si chiuda l'iter autorizzativo di Cava di Emoticani e quindi i giorni che serviranno. Sappiamo che già mercoledì c'è una conferenza di servizi a Palermo sull'AIA e quindi vedremo anche lì che cosa succede. Ma è chiaro che per noi oggi è fondamentale avere il provvedimento perché diversamente ritorniamo di nuovo da domani ad avere un problema di emergenza igienico-sanitario. Le risultanze dell'incontro della Regione sono state comunicate stamane nel corso della conferenza dei servizi dal primo cittadino. La reitera dell'ordinanza del tipo che ho fatto io si può fare, ma è chiaro che io ho ordinato di stoccare i rifiuti. I rifiuti non possono essere stoccati all'infinito, devono comunque necessariamente arrivare ad una destinazione, quindi la Regione deve darci una destinazione. Oggi non può essere la vasca di Cava di Emoticani perché non può essere utilizzata, quindi ci deve dire la Regione qual è la vasca dove dobbiamo conferire i rifiuti. Noi possiamo trattarle a Cava di Emoticani, temporaneamente parcheggiarli lì, ma dovranno comunque essere abbancati da qualche parte, quindi la Regione ci deve dare un posto da abbancarli. È stata già resa nota dall'assessorato dell'istruzione della Regione Sicilia la data di inizio del prossimo anno scolastico. Gli studenti siciliani torneranno a scuola il 14 settembre. Scopriamo nel servizio maggiori dettagli sul calendario scolastico, quando ricadranno le vacanze pasquali, di Natale e altre ricorrenze. Siamo ancora in piena estate, per gli studenti in vacanza la scuola sembra al momento un lontano ricordo. Tuttavia è stata già resa nota la data di inizio dell'anno scolastico 2017-2018. L'assessorato dell'istruzione della Regione Sicilia ha infatti già pubblicato in una nota il calendario per il prossimo anno scolastico. La campanella che stancirà il ritorno a scuola suonerà indistintamente per tutti gli alunni siciliani giovedì 14 settembre. Ma i 206 giorni di scuola previsti, 205 se la festa del patrono ricada nel corso dell'anno scolastico, saranno intervallati da diverse pause corrispondenti alle vacanze natalizie, pasquali e altre ricorrenze. Le vacanze natalizie avranno inizio venerdì 22 dicembre 2017 e si rientrerà a scuola lunedì 8 gennaio 2018. In occasione della Pasqua invece si andrà in vacanza giovedì 29 marzo e si tornerà tra i banchi martedì 3 aprile, dopo il lunedì dell'Angelo il 2 aprile. Tra le festività nazionali che regaleranno un ulteriore momento di pausa ci sarà l'8 dicembre festa dell'Immacolata Concezione che cadrà di venerdì. Scuole chiuse anche mercoledì 25 aprile e martedì 1 maggio, rispettivamente festa della liberazione e festa dei lavoratori. E poi ancora il 15 maggio, l'autonomia siciliana che cadrà di martedì e sabato 2 giugno festa della Repubblica. Ogni città dovrà tener conto anche della data in cui ricade la festa del patrono, nel caso in cui sia un giorno compreso tra l'inizio e la fine dell'anno scolastico. Le elezioni termineranno per tutti sabato 9 giugno 2018. Il 30 giugno invece sarà l'ultimo giorno per la scuola dell'infanzia. Le date degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio e di istruzione secondaria superiore verranno stabiliti e resi noti dal Ministero dell'Istruzione. In relazione all'esigenza dell'offerta formativa, gli adattamenti del calendario scolastico a discrezione di ciascun dirigente scolastico possono riguardare anche la data di inizio delle elezioni, come anche alcuni giorni di vacanza non previsti dal calendario pubblicato dall'assessorato dell'istruzione della Regione Sicilia. La Regione Sicilia, nella nota, ricorda che qualsiasi esattamento attuato dalle scuole può articolarsi tassativamente nel rispetto di un minimo di 200 giorni di lezione. Per ulteriori dettagli è possibile consultare la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sul sito del Dipartimento di Istruzione e Formazione. Adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria. A tra poco. Ben trovati in studio. Celuca Manenti, già Presidente della sezione Ascom di Pozzallo, è il nuovo Presidente con Commercio Ragusa. È stato eletto dal Consiglio Provinciale dell'Associazione di Categorie e rileva l'incarico che era stato ricoperto da Enzo Buscemi. Il momento non è dei più semplici per la nostra associazione di categoria e per il comparto del commercio più in generale, afferma Manenti. Ma questo non mi esonera dall'accettare un ruolo che si preannuncia molto articolato e con tutta una serie di problematiche connesse che occorrerà affrontare con il giusto piglio. E cambiamo argomento perché il musicista ragusano Nico Arezzo e tra i 12 finalisti candidati alla tappa finale del Festival Show. Il 18enne si presenterà con il brano inedito Se Vuoi allo scopo di arrivare fra i primi tre che parteciperanno all'importante Kermes Canora nell'Arena di Verona il 4 settembre. Fondamentale è l'utilizzo del televoto. È importante per la mia carriera artistica se non l'inizio addirittura. Questo concorso si chiama Festival Show. Ho avuto la fortuna di arrivare in finale. In finale si arrivano in 12 e io sono tra i 12 d'Italia arrivati alla finale di Festival Show. Il 18enne ragusano Nico Arezzo e tra i 12 finalisti che si contenderanno il podio per poter accedere alla tappa finale del Festival Show il 4 settembre all'Arena di Verona. Manifestazione molto importante che ha sostituito il vecchio Festival Bar Estivo. Prima della finale ci sfideremo su palchi importantissimi del Nord Italia. Ad esempio io sarò il 10 agosto a Jesolo. Già questa data è fondamentale proprio perché la mia prima uscita sul palcoscenico di Festival Show con tutto questo pubblico si aspettano migliaia e migliaia di persone e già farò conoscere il mio pezzo. Nico figlio del maestro Peppe e della danzatrice Emanuela Curciu si presenterà con il brano inedito Se vuoi che è stato scritto con i testi di Michele Arezzo, giovane scrittore ragusano e zio dello stesso Nico. Una famiglia di artisti praticamente in gara. A fargli da guida il papà che lo segue sin da piccolo. Un primo obiettivo intanto è stato centrato con l'inserimento del suo brano nel CD Festival Show Summer Hit 2017. Per conquistare uno dei tre posti in Lizza sarà importante il televoto. E questa sabbia sa di noi, e questa luna sa di noi, e questo bacio sa di noi, sing na 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 E questa sabbia sa di noi, e questa luna sa di noi, e questo bacio, e questo bacio sa di noi Allora l'appello è? L'appello è votatemi al 478-7878 con scritto voto 09 così io posso arrivare all'area di Verona e fare se vuoi il mio nuovo inedito. È stata presentata ieri all'antico convento di Ragusa-Ibla la nuova guida ai migliori ristoranti di Sicilia da gustare. Giunta la sua quinta edizione, ancora una volta la guida si propone di raccontare un nuovo anno di viaggi tra i ristoranti della Sicilia a cui si aggiungono per la prima volta quelli effettuati nella splendida Matta. 12 chef provenienti da diverse parti della Sicilia si sono dati ieri appuntamento all'antico convento di Ragusa-Ibla per festeggiare insieme la nuova guida ai migliori ristoranti di Sicilia da gustare. Si tratta solo di alcuni dei tanti volti presenti nella quinta edizione della guida presentata ieri sera in conferenza stampa un libricino che racchiude un anno di viaggi tra i ristoranti della Sicilia a cui si aggiungono per la prima volta quelli fatti a Malta grande novità di questa edizione. È un'opportunità per scambiare delle idee su questo progetto che è iniziato dal mio amico Carmelo Pagano e siamo in collaborazione e noi teniamo molto che questo progetto va avanti. Malta e Sicilia insieme nel Mediterraneo, due perle che in sinergia possono far crescere ulteriormente il turismo. Di avvicinare la Sicilia a Malta, nel mondo della cucina, dei ristoranti. Ripeto, siamo contenti che abbiamo fatto questa collaborazione, questa rivista sarà distribuita con il nostro giornale venerdì prossimo a Malta e spero che ci saranno più collaborazioni, vogliamo dire. Siamo contenti di questo, sì. Soddisfatto di questo lavoro l'editore Carmelo Pagano. Due culture che si incontrano, giusto questo grande desiderio di offrire una finestra in più ai nostri viaggiatori. E allora gli amici che già ci seguono dalla Sicilia, adesso se vogliono andare a Malta hanno anche dei suggerimenti sui posti da trovare a Malta e viceversa, no? E per quelli di Malta che vogliono venire in Sicilia trovano tante descrizioni anche dei posti da visitare. Cerimonia per il 74esimo anniversario della caduta del fascismo questa sera a Scicli. organizzata dall'amministrazione culturale e dalla segreteria provinciale dell'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti. La manifestazione inizierà alle 20 presso lo slargo tra via San Filippo e via Dolomiti e si concluderà alle 21 in largo Gramsci davanti la stelle commemorativa alla resistenza partigiana che per l'occasione è stata arricchita da un nuovo arredo floreale. Nel corso della serata sarà anche proiettato un breve filmato che ricorderà episodi importanti della storia cittadina di inizio secolo. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro buon pomeriggio.